. 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 La testa cocendo, perché c'è il riscaldamento, globale per il quale Greta la protesta sta facendo, le tipi con le tinte, uomini su Tinder, a inizio del 2000 quel famoso coro milanista che insultava, l'Inter, ripetemi ogni singolo cartone, tipo Billy e Mandy e Dede e Dio Leone dog tifone, guarda che già c'ero, quando Mandelli non era Lorenzo Fragola, era Rigero, potessi riguardare tutto quello che hanno fatto, tutto quello che oggi non trasmetteranno più, prenderei l'adolescenza e i social network li metterei in loop, 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 loop. Ma che ne sanno il 2020? Ma che ne sanno il 2020? Ma che ne sanno il 2020? Di Snapchat e MySpace, dei bei GTA, ma che ne sanno il 2020? Di quando c'era Ben Solon, e Mosconi su YouTube? Dei Club Ogo e Tupac, della musica rap? Ma che ne sanno il 2020? Ma che ne sanno il 2020? Di quando le tre c'era Dragon Ball? Del Bawai e Dove è su? Double Jump Tiger Ball Bad News, Bad News, Bad News, Bad News. Giangia. Alcolico 6 di camera caffè Bissing su Insta pungenti, ma che ne sanno i gumi l'avventi? Ma che ne sanno i gumi l'avventi? Dei club Doggo e Tupac, della musica rap? Ma che ne sanno i duemila venti e di quando alle tre c'era Dragon Ball del Huawei dove è su, Doodle Jump Tiger Ball.